Musica Allora eccoci in diretta, vedo già nel nostro maxi schermo il primo ospite di oggi, abbiamo con noi Donato Ciavarella che ringrazio per questo collegamento direttamente da Roma, vero Donato? Ciao, buongiorno a tutti, sì sì, da Roma Perché il progetto nasce a San Giovanni Rotondo, però ecco nasce ad opera di tre giovani come te, Francesco Scaramuzzi, Saverio, Ciavarella e Donato Ciavarella che sei proprio tu però non tutti siete a San Giovanni Rotondo No, sia io che Saverio siamo a Roma, però Francesco sì, è lì, infatti ci dà una mano sul posto Allora grazie per aver accettato il nostro invito, ho anticipato che avremmo raccontato attraverso la tua viva voce questo progetto partito solo ieri a San Giovanni Rotondo che ci ha molto colpito, che ci piace molto e che si chiama Pane Sospeso, dal cuore alla tavola e ti invito a raccontarci di cosa si tratta Sì, appunto, ieri è partito questo nuovo progetto per la nostra città il progetto si ispira all'antica tradizione napoletana del caffè sospeso e sostanzialmente si propone di contrattare la povertà che è una sfida ancora oggi difficile e complessa per la nostra società a volte magari facciamo l'errore di pensare che la povertà sia una cosa lontana da noi che non riguardi le nostre vite o la nostra città ma purtroppo non è così, purtroppo anche nella nostra città ci sono persone e famiglie che vivono situazioni di fragilità economica anche negli ultimi mesi a causa dell'inflazione abbiamo riscontrato appunto tutti che c'è stato un aumento dei prezzi e purtroppo questi rincari hanno condizionato anche l'aumento del prezzo del pane dei beni di prima necessità e quindi andando a condizionare negativamente soprattutto chi già viveva situazioni di fragilità economica per questo da quest'analisi insomma nasce il progetto pane sospeso che si propone sostanzialmente di andare a raggiungere due obiettivi il primo è appunto riuscire a acquistare del pane per chi vive in una condizione di difficoltà economica e il secondo obiettivo è appunto sensibilizzare le persone la comunità di San Giovanni su questo tema di cercare di insomma sensibilizzarla alla cittadinanza attiva alla solidarietà e alla condivisione Ecco Donato, spiegaci come funzionerà concretamente questo progetto Sì, allora in tutti i forni di San Giovanni sarà presente un salvadanaio quindi ognuno di noi potrà recarsi nei forni che ringrazio sin da ora per la collaborazione e fare una dolazione volontaria successivamente, periodicamente, questi soldi verranno raccolti e saranno convertiti in ticket in buoni pane che saranno consegnati a persone e famiglie che sono sostenute dalla Caritas Interparrocchiale e dalla mensa Francesco D'Assisi Paolo VI quindi le famiglie riceveranno questo ticket in autonomia potranno recarsi nei forni e acquistare il pane fresco Molto bene, mi auguro che questo progetto abbia un largo coinvolgimento quindi che tutti noi nel nostro piccolo riusciamo a fare lì dove parte il progetto oggi, San Giovanni Rotondo ma mi auguro che possa avere anche una bella contaminazione una bella diffusione sul territorio perché poi davvero basta poco un piccolo gesto da parte di ognuno di noi per migliorare la vita di tante persone dove possiamo seguire gli sviluppi di questo progetto? Allora, sulle pagine social, su Facebook, su Instagram Pane Sospeso, San Giovanni Rotondo Tra l'altro un bellissimo logo accompagna il vostro progetto Pane Sospeso evidentemente il creativo che ha dato forma a questo logo ha ben pensato di trasformare la scritta pane in una pagnotta fumante e sotto, ecco, leggiamo la parola Sospeso Pane Sospeso complimenti anche per questo bellissimo logo Donato, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo siamo felici di aver potuto rilanciare questa bella iniziativa su Padre Pio TV e vi auguriamo buon lavoro Grazie mille ringrazio anche da parte degli altri responsabili e ringrazio sin d'ora tutta la cittadinanza perché siamo certi che ci sarà una forte collaborazione Bene, noi magari ci risentiremo tra qualche tempo per scoprire come è andato il vostro lavoro come sta procedendo il vostro lavoro Grazie Donato Grazie a tutti